Benvenuti ragazzi sul canale di Sangue Rosso Nero, sono incazzato nero per la squalifica di Ibrahimovic, squalifica che era completamente da levare, una squalifica inesistente. Preso atto dei video che comprovano che Ibrahimovic ha detto non te ne potevi sta a casa, che sei venuto a fare roba di questo genere, che non sono insulti, proteste, ma anche civili, l'arbitro Maresca, siccome gli prude il culo, presuntuoso, supponente come arbitro, un arbitro veramente a parere scarso, come arbitro è proprio scarso, perché da cartellini gialli regalati a destra e a manca, l'ho visto arbitrare anche l'Inter in malo modo e Conte all'epoca aveva ragione due mesi fa, un mese fa, quando ha detto Maresca sempre tu, o le parole di Donnarumma Domenica quando ha detto Maresca vuoi fare sempre il protagonista, cioè per dirgli che anche gli addetti lavori sanno che questo è un arbitro molto permaloso e l'associazione italiana arbitri, Laia, che fa, si mette a 90 per difendere il proprio tesserato, il proprio arbitro. Ibrahimovic è chiaro che non era assolutamente da squalificare manco una giornata, manco una giornata, il fatto che loro gli hanno dato una giornata di squalifica è la prova che hanno la coscienza sporca, perché se fosse stato vero che avesse detto Ibra degli insulti o roba del genere, gli avrebbero messo delle due giornate classiche. Gli erano messe una perché sapevano che Ibrahimovic non ha detto un insulto, nel referto Maresca ha scritto proteste insistenti, irrispettose, irrispettose. Raga, io ho giocato a calcio, non so chi di voi ha giocato a calcio, ma io ho giocato a calcio non solo nei torni di calcio a 7, calcio a 5, calcio a 8, ma anche comunque in eccellenza campi a 11. Capita in un momento di una partita di dire all'abito, ma vai a cagare, o ma che cosa fischi, o hai sbagliato totalmente a fischiare, che stai a di... Capita, e non mi è mai capitato di essere espulso, perché ho detto a un arbitro, senti per favore, era meglio che te ne stavi a casa, al massimo ti ammonisce, se per maloso ti ammonisce, ma non esiste né in cielo né in terra l'espulsione, perché Ibrahimovic ha detto te ne potevi sta a casa, robe di questo genere. Cioè, ci rendiamo conto che dopo che abbiamo avuto quei famosi rigori, di cui, ripeto, su 14, 15, 16 rigori che abbiamo avuto, 14 c'erano tutti, due non c'era, uno con la Roma e l'altro mi sfugge l'altra squadra. Ma da quando ci ha albersagliato la stampa sul record di rigori, Milan, eccetera, eccetera, noi abbiamo avuto un'espulsione di Leao, sempre grazie a Maresca, che non c'era assolutamente. L'espulsione contro il Benevento di Tonali, che non c'era assolutamente. Il rigore di Bakayoko contro il Napoli, fallo di Bakayoko nel rigore, e non ce l'hanno dato. Mox, espulsione di Ibrahimovic inventata dal nulla. Cioè, c'è da dire che nel giorno di ritorno gli arbitri ci stanno letteralmente martoreando i coglioni. Io non voglio pensare che Milan non vogliono portarlo in Champions. Però c'è da dire una cosa, che il Milan in Champions, con il vaccino di utenza che ha i diritti televisivi, leva soldi alle altre squadre che si qualificano. Dunque è chiaro che un Milan Champions vuol dire meno soldi dei diritti televisivi. La Juve se si qualifica, l'Atalanta, l'Inter, o chi che sia, che arriva tra le prime quattro. Dunque, sicuramente un Milan in Champions è molto scomodo economicamente per la distribuzione dei diritti TV. Io vedremo le prossime partite, ma se ci fossero altri episodi, sto genere espulsione inventate, rigore non dati. Io sono lì come un vulcano sul punto di esplodere, perché ho fiutato che qualcosa non è del tutto regolare, non sono del tutto ben misurati gli arbitri con le ultime partite, nell'ultimo mese e mezzo. Poi se noi ci mettiamo fuori del nostro, ci martelliamo i coglioni, eh, me, raga. Però, occhio, 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 che questa arbitrare che gira intorno a Milan non mi piace. Certo, voi direte, la società si deve far sentire pubblicamente davanti alla TV, ma io sono convinto che Maldini, per come ho imparato a conoscere Paolo televisivamente, insomma, in tanti anni che vedo il Milan, sono convinti che dietro le quinte, in FIGC, la voce l'abbia alzata, la dirigente della società l'abbia alzata, la voce, e la faccia di Maldini, dopo l'esplosione di Libra, la diceva tutta. Dunque, occhio, se pensate che Milan stia zitto, non è così. Detto ciò, ragazzi, iscrivetevi, mettete un like e occhio agli altri tre pezzi di merda. Ciao, ciao.